Henri Bergson, passato e presente. Dopo aver definito il presente non ciò che è, ma ciò che si fa, Bergson arriva a considerare il passato come non ciò che ha cessato di essere, ma ciò che ha cessato di essere utile. Conclude il filosofo francese, ogni percezione è già memoria. Ma in quale modo il passato, che per ipotesi ha cessato di essere, potrebbe conservarsi da solo? Non si tratta forse di una vera e propria contraddizione? Rispondiamo dicendo che il vero problema è precisamente quello di sapere se il passato ha cessato di esistere o se invece ha semplicemente cessato di essere utile. In modo arbitrario voi definite il presente ciò che è, mentre esso è semplicemente ciò che si fa. Le riguarda meno di ogni altra cosa il momento presente, se con ciò si intende il limite indivisibile che separa il passato dal futuro. Quando pensiamo il presente come ciò che deve essere, esso non è ancora e quando lo pensiamo come esistente è già passato. Se invece pensate il presente concreto e realmente vissuto dalla coscienza, si può dire che esso consiste in gran parte nell'immediato passato. Nella frazione di secondo in cui dura la più corta percezione è possibile di luce, hanno avuto luogo trilioni di vibrazioni, la prima delle quali è separata dall'ultima da un enorme intervallo. La vostra percezione, per quanto istantanea, consiste dunque in un'incalcolabile moltitudine di elementi ricordati e, a dire il vero, ogni percezione è già della memoria. Noi non percepiamo praticamente che il passato dal momento che il puro presente è l'innafferrabile progresso del passato che fa presa sul futuro.